Pallone in mezzo, svettano, il centrocapista e poi dal gol! Il gol dell'Italia, siamo avanti noi, è proprio Manella! È proprio il centrocapista del Cagliari! Di controbalzo, collo pieno dal limite dell'area, sulla respinta corta della ditta. Pannosamente a tenere palla tra i piedi, l'attaccante della Lazio, allungare la squadra, non viene però seguito dai compagni. Azione personale, gran lancio, Ken è solo... Ken! Il raddoppio dell'Italia! Esattamente, al ventinovesimo...